Delusione, frustrazione, insicurezza, depressione sono solo alcuni dei sentimenti testimoniati dei soggetti intervistati dal nostro centro ricerche negli ultimi mesi. Secondo le ultime statistiche sono soprattutto gli studenti e gli operatori del settore culturale e umanistico a soffrire di questo stato di crisi. Noi della Medical Dynamics abbiamo trovato il modo di opporci a tutto questo. Abbiamo trovato la cura. Il nostro programma di riabilitazione punta in un primo momento a ridurre e depotenziare attraverso dei nanotrasmettitori neurali le funzioni cerebrali dell'emisfero destro, il cosiddetto cervello creativo. Il passaggio successivo porta a concentrare le funzioni cerebrali nell'emisfero sinistro, il cosiddetto cervello logico, massimizzandone e perfezionandone i risultati. Dopodiché il paziente passa attraverso un percorso intensivo di otto settimane, articolato in incontri di gruppo e attività di concentrazione psicologica, il tutto coadiuvato da un team di personale esperto e abilitato. Il programma è stato condotto in via sperimentale tra i mesi di ottobre e dicembre su cinque pazienti. I riscontri sono stati positivi e l'inserimento nella società per i cinque soggetti senza alcun tipo di difficoltà. I video che vi presenteremo saranno dedicati alle loro esperienze e alle loro testimonianze, perché siano le loro voci e i loro nuovi sorrisi a dirvi che un nuovo futuro è possibile. Quando ero un musicista io credevo di poter arrivare ovunque, di riuscire a fare qualsiasi cosa, ma man mano che il tempo passava mi sono reso conto che non era tutto proprio come me l'ero immaginato. Noi facevamo concerti in continuazione, serate, ma non andavamo da nessuna parte. Io davo anche delle lezioni private di musica, ma era chiaro che mi stavo solo prendendo in giro. E comunque dopo il decreto ho dovuto smettere. L'unico lavoro che mi era rimasto era in un call center e sono caduto in depressione. Poi però questo mio amico che prima faceva video mi parla della medical dynamics. E così un giorno incontro il dottor Maffeis e da quel giorno la mia vita è cambiata. Ora sono felice, lavoro sempre in un call center, ma è tutta un'altra cosa. Ora aiuto le persone e riesco a vedere un futuro davanti a me. E tutto questo grazie alla cura del dottor Maffeis. Grazie Medical Dynamics.